ciao a tutti ragazzi siamo su modern combat 5 pronti per uno spacchettamento allora si tratta di 20 pacchetti per ingegnere vediamo cosa riusciamo a fare oggi allora apriamo e partiamo con il primo vediamo di cosa si tratta allora attenzione pronto all'assemblaggio la mess ed arma penso di livello 2 del geniere e esatto arma di livello 2 che andremo a provare e poi per quanto riguarda le varie torrette abbiamo la torretta di precisione livello 4 abbiamo preso appena adesso un pacchetto un progetto un progetto anche per la torretta corrazzo che non è niente male questa torretta bella cazzuta e poi vediamo la messa n pronta all'assemblaggio e manca un altro pacchetto per la t core per essere sblocchiata e chiaramente la kr 15 ce ne vogliono tanti di pacchetti per andare a sblocchiata comunque apriamo il prossimo e vediamo attenzione ruolo tamburi pronta all'assemblaggio la t core disponibile da subito e altro progetto per la torretta di precisione e un progetto mamma mia qua ne servono un casino per il draft ok e mess n chiaramente ancora lì ok capper 15 siamo ormai a livello 3 e la dmg ce ne vuole ancora un pochettino andiamo avanti ok un altro progetto per la west hs 414 t core pronta all'assemblaggio come abbiamo detto prima mess n e progetto per arma da spalla ve la ricordate l'arma da spalla ragazzi ok si passa al terzo terzo quarto poi non lo so ok pronta all'assemblaggio la torretta stordente non mi è mai piaciuto sinceramente più di tanto la torretta stordente devo testarla magari un pochettino meglio andiamo avanti andiamo avanti dmg polvere diamante kr 15 che avanza bene la kr 15 quella che mi interessa di più del treniere ragazzi perché mi ricordo che era una bella arma proprio ok torretta la spalla tanto questa non ce la faremo sbloccare secondo me lo sbloccheremo con questi pacchetti con questi 20 pacchetti riusciremo a sbloccare anche la torretta d'assalto e probabilmente spero ma spero tanto la kr 15 ok apriamo il prossimo pacchetto west kr 15 torretta corrazzo e torretta di precisione andiamo avanti voilà ok torretta di precisione pronta all'assemblaggio la vli prestigio qua ce ne vogliono troppi kr 15 avanza e torretta fucile anche questa non è male anche perché quando l'attacchiamo sotto a i soffitti è bella cazzuta si va avanti perfetto di prestigio il cercatore questa non l'ho mai avuta sinceramente ragazzi e la stordente pronta hs 414 prossimo pacchetto cosa abbiamo qua cosa abbiamo non abbiamo niente di assemblato tre progetti mancano ragazzi tre progetti mancano attenzione polvere diamante o hs 414 pronta l'assemblaggio andiamo avanti vai la kr 15 kr 15 mancano gli ultimi due progetti spero tantissimo lo spero tantissimo ok apriamo la prossima torretta corrazzo anche questa è bella cazzuta andiamo avanti la west oh kr 15 manca soltanto un progetto ragazzi manca solo uno dai 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 dimmi che la sblocchiamo dimmi che la sblocchiamo oh pronta l'assemblaggio la kr 15 grandissimo e poi e poi e poi la vli si ciao cosa abbiamo qua adesso cosa abbiamo torretta corrazzo secondo me ce la facciamo a sbloccarla mancano altri due progetti qui pian piano andremo anche a testarli ok andiamo avanti che ma escono un casino di doppioni cacchio ok dmg torretta corrazzo no ho sprecato 80 crediti ragazzi non avevo visto che erano già finiti ok niente che dire andiamo a vedere quello che abbiamo recuperato mannaccia ci avevo 100 che mi si volevo utilizzarli per vabbè fa lo stesso allora andiamo a vedere subito di che cosa che cosa abbiamo sblocchiato ragazzi allora andiamo subito ad assemblare l'arma di livello 2 cioè la mess n che andremo a provare abbiamo anche la possibilità di potenziarla poi andiamo ad assemblare altre armi abbiamo la possibilità di assemblare la t-core assembliamo subito vediamo se abbiamo dei progetti anche qui abbiamo quattro progetti disponibili che poi dicevo quando uscivano i pacchetti uscivano di nuovo le armi dicevo doppie ma in realtà non sono doppie perché sono sono progetti che ci servono per potenziare l'arma appena sbloccata ok poi andiamo ad assemblare la prossima cioè l'hs 414 pronta l'assemblaggio perfetto e poi 6 progetti disponibili alla grande proprio e in ultimo direi che è l'ultima che c'è rimasta la mia preferita penso che sia la mia preferita a parte quella di prestigio della classe ingegnere la kr15 eccoci qua kr15 appena sbloccata vediamo quanti progetti abbiamo è solo un progetto gli morti l'unica che mi interessava ok andiamo a spacchettare anche le torrette torretta stordente assembliamola pronta ok e poi anche qui abbiamo due progetti e andiamo a sbloccare la torretta d'assalto pronta l'assemblaggio ok e poi per ultimo esatto l'ultima è la torretta di precisione che assembliamo subito niente ragazzi oggi abbiamo con 20 pacchetti anzi 21 perché uno l'ho pagato e con 21 pacchetti siamo riusciti praticamente a sbloccare una due tre torrette e come armi una due tre quattro armi direi che ci è andata veramente bene speravo qualche progetto in più per la kr15 piuttosto che altre armi però va bene ci accontentiamo di questo niente ragazzi allora la prossima volta andremo pian piano utilizzare a una a una le altre armi e poi un po' a random cercheremo di potenziarle tutte e chiaramente faremo anche le torrette altra cosa ragazzi andremo avanti anche con il cacciatore di taglia perché anche qui voglio potenziare più possibile la mia vortice e soprattutto mi piacerebbe arrivare a sbloccare che mi manca l'ultimo progetto la Vosk 4 un'arma che mi è sempre piaciuta mi è sempre piaciuta della classe cacciatore di taglia comunque che dire ragazzi concludiamo qui questo video grazie a tutti per il vostro ascolto mi raccomando spoliciate se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo appuntamento ciao a tutti ragazzi complimenti hai terminato la visione da questo momento hai 10 secondi per fare la tua scelta